Un passo avanti, ma non ancora sufficiente a garantire la riapertura dei presidi di guardia medica rimasti chiusi. L'accordo sperimentale a garanzia della continuità assistenziale, sottoscritto ieri dalla Regione con la Federazione dei Medici di Medicina Generale e i sindacati di categoria, consente innanzitutto quell'adeguamento di compensi auspicati utile ad arginare un'ulteriore fuga di camici bianchi verso altre declinazioni della professione. Attualmente la prestazione verifica rimunerata con 23 euro l'ora, con questi accorgimenti si può arrivare anche a 40 euro l'ora, ma quando i medici riescono a sostituire altre postazioni non coperte. È un ritocco auspicato che si lega ad una rimodulazione del servizio, calibrato su una mappatura dei territori e una implementazione delle centraline telefoniche utili al servizio, ma non è ancora sufficiente ad avere quel quantitativo di personale utile a garantire la riapertura dei presidi di guardia medica che erano stati chiusi. Un accordo accolto con tiepido favore dai consiglieri regionali d'opposizione come Marta Ruggeri e Andrea Biancani, che hanno sottolineato un primo passo avanti al cospetto di una strada ancora in salita per avere le riaperture sperate. Questo è sicuramente un primo passo importante. Noi ci auguriamo che in tempi brevi la regione riesca a ripristinare le guardie mediche dove attualmente sono chiuse. Ricordo che a Pesaro, a Fano, a Gabiccia, a Vallefoglia, a Cagli, ma anche in altri comuni, il servizio di guardia medica attualmente è sospeso o è presente solamente nel corso del fine settimana e i cittadini, se hanno bisogno di un consulto, soprattutto durante le ore notturne, sono costretti a rivolgersi attraverso un centralino telefonico alla Guardia Medica di Urbino. È un servizio che non può essere fatto solamente a livello telefonico e quindi noi riteniamo che sia importante ripristinarlo quanto prima. Attualmente i cittadini, ovviamente non avendo questo servizio, sono costretti a rivolgersi al punto di soccorso andando a rintasare un servizio dove c'è già soprattutto una carenza di medici ma non è sicuramente opportuno che per piccoli problemi le persone si riversino al punto di soccorso ma devono avere comunque una guardia medica a disposizione per poter avere un consulto, per poter fare una visita e quindi per poter stare tranquilli.